Buona giornata da Nikos Chiodetto. Previsione per lunedì. Nuova settimana che si apre con un campo di alta pressione molto più ad est rispetto all'Italia perché osservate come verrà disturbato da una nuova perturbazione che poi martedì attraverserà tutto il centro nord Italia con piogge temporali. Andiamo al dettaglio quindi della previsione della nuvolosità con cieli ancora sereni o poco nuvolosi sul nord est e regioni del centro sud. Mentre un fronte nuvoloso disposto proprio tra la Spagna, il sud della Francia e le nostre regioni nord occidentali arrecchera piogge d'acquazzoni. Prossima grafica, zoom precipitazioni che ci conferma un peggioramento già su Piemonte, Valle d'Osta con piogge rovesci anche intensi sulle api occidentali e poi lunedì dal pomeriggio in serata acquazzoni anche su Liguria o Emilia occidentale, Trentino Alto Adige ma soprattutto Lombardia. Nel dettaglio una giornata ancora quindi abbastanza buona sulle Venezie, la Romagna, tutto il centro sud con ampie aperture del cielo e temperature estive o quasi. Osservate invece il fronte nuvoloso in arrivo dalla Francia con le piogge in arrivo da prima Piemonte, Valle d'Osta ma entro la serata tutta la Liguria, Emilia occidentale, Lombardia e Trentino. Dettagli maggiori, ulteriori approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo.